Applausi a scena aperta per la Vispesero, che scrive una gratificante pagina della sua storia di Serie C, battendo con un roboante 4-0 il Pescara, ritrovando la vittoria al Benelli che mancava da ottobre e infilando sette punti in una settimana che l'allontanano dal quintetto play-out. Tutto perfetto al Benelli con la Vis che bussa due volte nel primo tempo con i gol di Pucciarelli e Carson, poi nella ripresa l'islandese trova la doppietta e il decimo gol personale prima della ciliegina di Dapozzo che manda in visibilio il tifo bianco-rosso. Dal calcio a rugby, preziosa vittoria in rimonta per la Fiorini-Pesero sul campo veneto del Patavium. I Kiwi si impongono 32-31 dopo una partenza contratta che li porta in svantaggio fino a riprendere le redini dell'incontro, poi vinto con un calcio di punizione all'ultimo minuto. Nel calcio 5 Piero Tecnico 5-5 fra Ital Service e Meta Catania viziato da un arbitraggio fortemente penalizzante per i pesaresi. Succede di tutto al palamegabos con l'Ital Service che chiude sotto il primo tempo 2-1 con rete pesarese di Barrichello. Nella ripresa Catania allunga 4-1 ma la squadra di Scarpitti riemerge con una rimonta clamorosa che la porta sul 5-4 grazie alla doppietta di Andre Ferreira al gol di Murilo e alla seconda rete di Barrichello. Nel finale però il più contestato episodio arbitrale con Miguel è intrattenuto ma per gli arbitri si può giocare e la meta va in contropiede e trova il 5-5 definitivo. Famiglia Ital Service che si consola con il Loreto Basket che nella Serie B di pallacanestro vince il derby col Pisaurum 89-72. Infine da Parigi arriva la terza straordinaria affermazione intercontinentale per il pesarese Jordan Valdinoci che conserva il suo titolo mondiale di kickboxing Isca difendendolo nell'incontro con il padrone di casa transalpino Quentin Honoré. Impresa ancora più straordinaria perché Jordan ha impiegato appena un minuto e 20 secondi per mettere l'avversario KO e affermarsi per la terza volta sul tetto del mondo.